Riscuotevano pensioni di parenti che però erano morti da tempo. La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto una truffa ai danni dell'Impdab. 15 persone sono state denunciate e sono stati sequestrati i beni per 1,6 milioni di euro. I militari hanno preso in considerazione molte posizioni previdenziali e concentrandosi su quelle ritenute anomale hanno scoperto diversi casi di decessi non comunicati all'ente previdenziale dei dipendenti pubblici, dai parenti dei defunti, che hanno continuato a incassare gli assegni mensili. C'era chi, presentandosi allo sportello, ritirava in contanti la pensione con la delega del titolare defunto e altre invece che ricevono comodamente il vitalizio con l'accredito su un conto corrente e cointestato. C'è anche la particolare storia di una coppia di coniugi trasferitasi in Brasile, morti da diverso tempo, i cui parenti, oltre ad aver editato da loro un cospicuo patrimonio, hanno indebitamente incassato pensioni per circa mezzo milione di euro.